Un viaggio nella pittura e nella scultura molisana che attraversa quattro secoli, un'opera corposa, 600 pagine, oltre 500 illustrazioni e soprattutto l'analisi, anche la scoperta di 112 tra pittori e scultori che hanno sostanziato di ricchezza artistica la nostra terra. Presenze artistiche importanti, quelle analizzate dopo uno studio sul campo durato anni da Dante Gentile Lorusso nel suo volume Attraversamenti pittori e scultori in Molise dalla fine del Cinquecento agli anni Sessanta del Novecento, presentato nell'Aula Magna del convitto Mario Pagano di Campobasso e pubblicato dall'editore Vincenzo Manocchio con il sostegno della Banca delle Provincie molisane. Un viaggio quello di Gentile Lorusso condotto in Molise ma anche fuori regione, in musei, collezioni private, depositi alla ricerca di opere anche ignote ai più tra esse. Ci sono pure delle chicche come i quadri di Robert De Niro Senior, padre del famoso attore originario di Ferrazzano. Ci sono cose molto molto interessanti da vedere in Molise, ci sono opere di grandissima qualità, un po' sparse in tutto il Molise, diciamo, partendo dalla porta di Venafro per arrivare a Montorio nei Frentani dove ci sono due capolavori di un pittore fiammingo della fine del Cinquecento. Sono testimonianze molto interessanti. Vittorio Sgarbi, in un videomessaggio, ha definito il libro ottimo e ricco per la quantità e la qualità degli artisti trattati e presenti nel Molise che lui ha girato e conosce. Si è soffermato sul lavoro di Teodoro De Enrico a Montorio, su Paolo Gamba, fino ad arrivare a Gino Marotta. Ci sono artisti con identità definite, un testo che è una luce sull'arte del 1500 ad esempio, ma anche del secolo successivo e che rivaluta pure percorsi finora marginali che colma vuoti. Un catalogo al quale hanno collaborato 16 tra studiosi e ricercatori che nelle intenzioni dell'autore vuole essere un punto di riferimento aggiornato e completo per chi ama la pittura e l'arte. Io ho messo, come dire, i primi dieci mattoni, c'è una base, da qui si può partire per costruire qualcosa e quel qualcosa io spero possa diventare questa nuova sensibilità, questa nuova consapevolezza per arrivare a costruire in Molise e precisamente a Campobasso la galleria d'arte moderna e contemporanea del Molise. L'editore Vincenzo Manocchio ha parlato di attraversamenti come di una pietra miliare nell'editoria artistica del Molise in un contesto dove pubblicare non è operazione facile. Abbiamo lavorato per 4-5 anni insieme all'autore Dante Gentile Lorusso e insieme a 16 ricercatori storici dell'arte e quindi è venuto fuori un capolavoro importantissimo, apprezzatissimo dal sottosegretario al Ministero della Cultura Vittorio Sgarbi e quindi siamo veramente soddisfatti di aver fatto una cosa buona e giusta e importante per le future generazioni.